Mi chiamo Elia Beggiotti, vengo da Pienza, un paesino in provincia di Siena e prima di frequentare il corso professionale di pasticceria ho frequentato il liceo scientifico a Montepulciano e questo corso mi ha permesso di affiancarmi a persone di grande livello, per esempio Rorsano Vinciarelli, dove sono stata a fare lo stage dopo il corso e è stata una novità per me perché non pensavo di fare questa scelta nella vita ma tutt'altro e attualmente ho una gelateria, produco e vado anche al punto vendita nel poveriggio e attività familiari che gestisco insieme ai miei cugini e genitori.